Buonasera, buonasera e benvenuti di nuovo a questo appuntamento, il penultimo di questa stagione numero 24 e questa sera per la prima volta, perlomeno quest'anno, sicuramente nel passato l'abbiamo già fatto, ospitiamo le ragazze del Volley Oratorio Polisportivo Oratorio Clusone, perlomeno una delle tante squadre perché poi Fabio Scandella, che è l'allenatore di queste ragazze Clusone Gialle, mi hanno detto, però sono le categorie mini allieve, ci racconterà un po' tutto quello che è successo in ambito della pallavolo perché so che c'è grande fermento. Siamo, dicevo, giunti alla 34esima puntata di questo 24esimo anno e ancora una volta torniamo a parlare di pallavolo, uno degli sport che, soprattutto qui nell'Altopiano, ma oserei dire in tutta la Val Seriano o nella Bergamasca se preferite, è certamente un po' un fiore all'occhiello di tutte le manifestazioni sportive che ci sono. E allora vado subito a presentarli, vando alle ciance come si dice, a presentarli iniziando proprio dall'allenatore, lo vedete qua, lui è l'allenatore Fabio Scandella, dobbiamo dire che gestisce queste ragazze perché pur bravo che sia, un uomo soltanto, con queste ragazze di 13 anni è difficile riuscire a gestirle da solo ed ecco che allora c'è Laura che ti aiuta, mi pare, e dunque non ha voluto essere, è dietro alle telecamere, ne lo diciamo, però non ha voluto essere qua a fianco a te e naturalmente la salutiamo. Vicino a Fabio, io dirò solo il nome di queste ragazze per carità, eccola qua, Elisa, benissimo, chi è la capitana poi mi alza la mano, man mano che la chiamo, Alessandra, diamo il tempo ad Angelo per i primi piani, eccola inquadrata, Lara, eccola, bravissimo Angelo, Alessia, e poi andiamo dietro, si è già intravista, Catherine, ho detto giusto Catherine, mi ho chiesto anche come si scriveva ma poi l'ho pronunciato giusto, Irene, eccola, Federica, e Alice, non ho visto la mano alzarsi, vuol dire che la capitana, Fabio, non c'è? Ah è lei, ah non l'ha alzata, vabbè, allora Elisa sei la capitana, parliamo fra poco, salutiamo Elena, Alice e Desiree che non hanno potuto essere per impegni che in questa serata avevano già assunto, comunque le salutiamo, le ringraziamo per questa bella, possiamo definirla bella stagione Fabio? Sì, diciamo che è stata una bella stagione dai, è iniziata un po' altalenante, perché noi abbiamo tutto un gruppo di ragazze del 2003, ok, e abbiamo fatto il campionato delle mini allieve che però aveva anche dei 2002, delle squadre più grandi, più strutturate, per cui per noi è stato davvero un obiettivo difficile da raggiungere questo, perché ci siamo scontrati con squadre più grandi e per cui abbiamo dovuto, tra virgolette, imparare a gestire l'emozione, a gestire il gioco, raffrontandoci con delle ragazze più grandi, questo è stato per loro uno sprono, nel senso che sono andate, ogni partita per loro era un voler dimostrare di essere più o meno all'altezza e col passare delle partite, col passare del tempo, ci siamo resi conto che forse poteva diventare un obiettivo non proprio così irraggiungibile. Abbiamo raggiunto l'andata, prima in classifica, poi con difficoltà abbiamo ricominciato il ritorno, sono arrivate delle sconfitte, perché sono arrivate delle sconfitte un po' per timore, un po' per paura di dover affrontare una squadra più grande e così, però diciamo che alla fine è nato questo bel risultato che per noi a Clusone è molto importante. Ecco, però scusa per chi non è addetto ai lavori, facci capire perché hai detto la fine dell'andata la van prima e alla fine del ritorno? Sempre prime. Ah beh, allora, anche se sono arrivate delle sconfitte, ma avete vinto il campionato. Sì, abbiamo vinto il campionato, però sono arrivate delle sconfitte che ci hanno fatto ragionare. Ci hanno fatto riflettere e poi abbiamo ricominciato a giocare, a portare gioco e siamo riusciti a vincere questo campionato. Allora, intanto la regia ci manda delle immagini che le ragazze e Fabio ci hanno portato. Presumo che voi siete le gialle, giusto? No, siamo le gialle. Siccome mi hanno detto prima la squadra gialla, pensavo con la maglia gialla e invece avete la maglia bianca. Sì. Comunque poi fra poco le vedremo ancora, le immagini ce le manderà ancora la regia. Allora, per tracciare il quadro del Polisportivo Oratorio Crusone Sezione Volley, so che ci sono altre squadre, so che ci sono stati altri bei risultati. Permettimi prima di salutare Marco Rota, il presidentissimo, probabilmente lo vedrò magari in una di queste serate alle gare di atletica, so che lui c'è in particolare, ama questo sport. E Alessandro Borrelli, che è il responsabile del volley. Settore pallavolo. Settore pallavolo. E adesso raccontaci velocissimamente cos'è successo per il resto delle squadre. Allora, abbiamo avuto delle buone soddisfazioni anche dall'anno 2005, delle esordienti, che sono riuscite anche loro a vincere il loro mini campionato. È stato anche per loro una bella soddisfazione, perché essendo ragazzine piccole hanno cominciato a fare un percorso di pallavolo e i primi risultati, anche con loro piccole, stanno arrivando. Certo. C'entri anche tu, ancora come allenatore? No, l'allenatrice è Giorgia, una ragazza di Clusone, aiutata da un'altra ragazza, che si stanno dando molto da fare per far crescere questi gruppi del giovanile. Qui vediamo tutti assieme a festeggiare una vittoria, mi pare che sia... Sì, una vittoria di set. A di set soltanto, il sinonimo di un bel campionato, come abbiamo detto. Sì, un bel campionato, sì. Benissimo. Poi vengo ancora da te, adesso, visto che abbiamo tanti ragazzi, sono tutte spigliate, ve lo posso garantire, prima della trasmissione ho fatto fatica a farle stare zitte. Adesso vediamo se sarà proprio così. Iniziamo con la capitana, è giusto. Elisa, dov'è il segreto del gruppo? Qual è stato, secondo te? Perché al primo anno di mini allieve avete battuto nel campionato le ragazze, dopo qualche sconfitta c'è stata, l'abbiamo detto, le ragazze che in effetti erano anche più grandi celle di voi. Diciamo che non è stato facile comunque, perché pensavamo, siccome alcune ragazze erano più grandi, pensavamo fossero più forti, però lo stesso con il nostro spirito di squadra e collaborando insieme siamo riuscite a superare i fini. Spesso e sovente si dice che l'arma in più per quanto riguarda una squadra, in tutti gli sport, calcio, fate voi, ciclismo, eccetera, è l'amalgama del gruppo. C'è questo amalgama, c'è questo gruppo, siete amiche anche fuori dalla pallavolo? Sì, sì. Va bene, perciò quando andate a conoscere i ragazzi andate assieme. Eh, vi ho colto, va bene, no, mi sembra giusto, insomma. Ecco, a proposito di questo, il pubblico vi ha seguito, a parte i genitori, eccetera, avete avuto con le partite in casa lì, abbiamo visto prima delle immagini un ragazzo che esultava per la vostra vittoria, perciò vuol dire che c'è anche un bel pubblico. Sì. Qual è stata la partita più bella e secondo te quando hai capito che poteva essere l'annata giusta? Domanda difficile. Domanda difficile? Insomma, partita dopo partita probabilmente. Hai capito che forse stavate facendo bene, insomma, mi pare di aver capito, no? Sì. L'avete costruito questo campionato, vittoria dopo vittoria, imparando sempre un pochettino in più e siete riusciti a portarlo a termine. Grazie alla Capitana Elisa, andiamo a conoscere... Ah, scusami, 13 anni, sei di Clusone? Sì. Benissimo. Alessandra sei di... Clusone. Allora, Fabio ha detto 13 anni, però siccome la matematica non è un'opinione, sono tutte ragazze del 2003, quest'anno qualche una avrà fatto anche i 14. 13, benissimo. Alessandra, quanti anni hai? 13. 13, benissimo. Allora, ci racconti un po' la tua storia con la pallavolo. Quando inizia? Io ho iniziato più o meno 6-7 anni fa a far pallavolo, perché mi è sempre piaciuto come sport e lo seguivo molto anche in televisione da piccola. Poi, conoscendo anche delle mie amiche che iniziavano, mi sono appunto decisa di iniziare questa esperienza e infatti poi non mi sono pentita. Benissimo, perciò è questo, questo vittorio del campionato è la soddisfazione maggiore? O già anche nel passato hai avuto... No, cioè sicuramente quest'anno c'è stata molta soddisfazione a vincere il campionato, però anche gli anni passati, pur non vincendo, cioè comunque è bello. Insomma, mi pare che sia una cosa positiva, poi se si vince si arriva prima e a questo punto non è proibito sognare, voglio dire, si può pensare a che cosa per il futuro? Ma magari di partecipare a un campionato Under 16 contro squadre più grandi e magari di puntare anche lì alla vittoria. Benissimo, grazie. Dai pure il microfono a Lara. Scusami Lara però, fammi capire, potrebbero già affrontare nel campionato Under 16? Sì, potrebbero, ma secondo me sono ancora un po' piccoline. Le altre società arrivano lì con ragazze un po' più strutturate, un po' più... Però è un pensiero che la polisportiva non ha messo del tutto da parte. Si potrebbe fare un anno dove si soffre, in cui le ragazze crescono contro avversari un po' più forti e poi l'anno dopo si potrebbe provare a farlo. È ancora una cosa al vaglio, dobbiamo avere una riunione a breve per cercare di capire il loro futuro. Giustamente per far capire, siccome le ragazze hanno anche l'ambizione di andare avanti e di guardare, qualcuno addirittura parlava fra cinque anni siamo la foppa, prima della trasmissione, dicevano proprio così, allora è giusto che possano guardare avanti e sicuramente lo stanno facendo. Ed è giusto capire anche quelli che sono gli obiettivi di queste ragazze. Andiamo, dicevo, con Lara, eccola lì, trevici anni, quattordici? Quattordici, sì. Questa volta ho colto nel segno. Di Crusone? Sì, è. Sì, di Crusone. Allora, con queste ragazze passi anche altro tempo, il tempo libero, il tempo della scuola. Sì, ci vediamo spesso, soprattutto anche a scuola, ma siamo amiche anche al di fuori dalla pallavolo e spesso usciamo anche insieme. Benissimo. Allora, del volo parliamo fra poco. È finita la scuola proprio pochi giorni fa, sono iniziati gli esami. Insomma, che cosa succede? È impegnativo? Eh sì, abbastanza. Adesso a breve inizieremo gli esami e adesso siamo un po' tutte emozionate, tese. Però comunque anche per esempio oggi ci siamo trovate e abbiamo giocato tutti insieme a pallavolo e ci divertiamo lo stesso anche se dobbiamo studiare. Non vi ha distolto, diciamo, la pallavolo da quello che era lo studio, perciò i vostri genitori, tanto non ci sentono, possono contare su di voi per gli esami, la promozione e il salto alle superiori? Sì, perché comunque la pallavolo è uno sport che ti aiuta anche a migliorare e ti apre la mente, soprattutto anche è uno sport di squadra e quindi fai molta amicizia così e con lo studio non ha influito sui nostri voti né niente, anche perché gli allenamenti erano la sera tardi e quindi niente, sia riuscita a conciliare tutti gli impegni. È bravissima, questo vuol dire insomma che se alla fine avete colto risultato, risultato bellissimo per quanto riguarda il vostro sport, speriamo e credo proprio di sì, insomma, ormai alle ragazze non c'è più niente da insegnare e da trasmettere, sono sicuro che anche gli esami andranno bene e l'anno prossimo, a settembre, inizierà una nuova avventura con, credo, tutte, con le scuole superiori. Che cosa ti aspetti per il futuro sportivo? Io mi aspetto comunque di andare avanti con tutta la squadra e magari anche di vincere altri campionati e di collezionare appunto altre vittorie. E andare avanti, insomma, sempre insieme? Sì. Questo vuol dire che è un bel gruppo? Sì. Va bene, grazie, grazie a Lara. Conosciamo Alessia che ha quanti anni? 14. 14, arrivi da Crusone? Sì. Benissimo. Raccontami, secondo te, prima l'ho chiesto a Fabio, il segreto, a parte lo spogliatoio, a parte il fatto che vi conoscete da tanti anni, che ormai siete rodate come gruppo, eccetera, però avete giocato con ragazze che sono più grandi di voi. Siete entrate per la prima volta in questo campionato mini-allieve e vi siete trovate a vincere il campionato. Cosa è successo? Per me comunque il segreto era veramente la squadra, però comunque c'è… Il gruppo? Allora facciamo così, ti aiuto, perché di solito vince il gruppo, eccetera, eccetera. Se c'è un comandante giusto che vi guida, non dico da 0 a 10 perché se gli dai 4 all'allenatore poi questo non fa più carriera. Facciamo da 5 a 10 che votogli daresti, soprattutto anche per, non tanto per il trasmettervi il gioco, perché quello siete già capaci, insomma, ma anche il rapporto che ha avuto con voi. 9. 9? Sì. Va bene, c'è un piccolo margine di miglioramento, però 9 ce lo merita. Sì. Forse anche questo, il sapere perché, naturalmente non tocca a me spiegarlo, io ormai sono nonno e ho quasi le nipoti grandi come voi, ma chiaramente la fiducia dell'allenatore e soprattutto la capacità dell'allenatore è quella di trasmettere fiducia alle ragazze, cercare di capirle, di far superare i problemi. Vi ha aiutato anche in questo, senza sostituirsi alla famiglia, naturalmente. Sì, ci ha aiutato molto, infatti, tipo, quando perdavamo, lui ci aiutava a risollevarci e ci sgridava, però comunque poi ci diceva che comunque avevano giocato bene e quindi ci tirava un po' su di morale. Certo, come avete visto non ho chiesto nessun ruolo, però fra poco nel secondo giro lo potremo fare, però te te lo anticipo che cosa giocavi, play? Io lato. Lato, perciò sinistro o destro preferisci? Come schiacciata, c'è una schiacciata sul posto 2 o al posto, guarda che me ne intendo, è il posto 4? Al 4. Al 4? Va bene. Ok, allora normalmente dovresti essere sinistra dal 4, giusto? Fabio, ho detto giusto? Sì, no, destra, sinistra. Ah sì, no, sinistra e il qua destro di là, scusami, hai ragione, però, insomma, più o meno ci siamo capiti o meno, faccio finta di intendermi anche se è un po' che non la seguo più. Siamo al giro di Boa per quanto riguarda la prima parte del nostro spazio dedicato a questa squadra che ha avuto davvero grandissime occasioni. Polisportiva, Volle, Oratorio, Crusone, campionato mini allieve. Queste ragazze, insomma, quasi in sordina, sono state capaci di arrivare addirittura prime, hanno debuttato in questa categoria e hanno sbaragliato il campo. Complimenti a loro. Noi ci prendiamo un attimo di pausa, qualche consiglio commerciale e poi andremo a conoscere le altre ragazze dietro che sono ansiose di raccontarci la loro storia, quasi ansiose. Ci vediamo dopo. Rientriamo, rientriamo in studio. Voglio soltanto suggerirvi, lo faccio soprattutto per coloro che si pongono soltanto ora in ascolto sulle frequenze di Antenna 2 sul canale 88 che questa sera per quanto riguarda questa penultima puntata del ventiquattresimo anno di Antenna 2 Sport abbiamo ospiti le ragazze categoria mini allieve della Polisportiva Oratorio di Crusone. Hanno vinto il campionato partendo magari un pochettino in sordina, hanno nel giro di ritorno calato un po' il ritmo, però sono riusciti ad arrivare ancora prima e la soddisfazione è ancora maggiore anche perché nello stesso campionato, nella stessa categoria c'erano ragazze di un anno più grande. Dunque complimenti a loro e credo il palcoscenico certamente meritato anche qui dai nostri studi. Abbiamo già conosciuto naturalmente Fabio Scandella con il quale andremo a dialogare ancora fra poco parlando anche del futuro. Abbiamo conosciuto Elisa, Alessandra, Lara, Alessia, abbiamo salutato da lontano perché non ci sono Elena, Alice e Desiree e adesso andiamo a conoscere Catherine che ci racconta quando è iniziato a giocare a pallavolo e il rapporto che c'è, anche un po' di gelosia che c'è magari fra di voi perché una gioca di più l'altra gioca di meno, insomma anche questo fa parte del gioco. Allora io ho iniziato a giocare a pallavolo due anni fa e all'inizio non giocavo in questa squadra, ho iniziato a giocare in questa squadra soltanto quest'anno all'inizio dell'anno, settembre-ottobre. Il rapporto che ho con questa squadra è ottimo, mi trovo bene e la qualità di campionato rispetto all'anno scorso piuttosto che quest'anno è molto diversa perché qua giochiamo in un campionato dove abbiamo incontrato squadre molto forti anche se noi comunque siamo riusciti a batterle e sì mi trovo molto bene con questa squadra. Questa ce l'ha sta lunga, avete sentito come ce l'ha raccontata bene, a questo punto naturalmente ci viene spontaneo chiedere tu sei appena arrivata e naturalmente a qualche d'una, e qui perdonatemi il mio ruolo è anche questo, qualche d'una magari ha detto come questa arriva il primo anno e mi porta via il posto magari con una che invece è successo o no? No, io credo che questa squadra mi abbia saputo accogliere molto bene, non ho avuto disturbi relazionari con nessuna delle compagnie, sono stata bene. Quanti anni hai? 13. 13? Brava, brava, anche perché questo vuol dire che da parte tua c'è anche la voglia di crescere, la voglia di fare gruppo, la voglia al di là dei risultati sportivi di capire che la vita può essere facile e non facile, dipende sempre come saperla affrontare e mi hai dato una bella dimostrazione che sicuramente ci sai davvero fare e hai già capita. Ti ringrazio, ringrazio Catherine, andiamo con Irene, allora sei di Crusone, Irene hai? Sono Gavazzo. Ah, sono Gavazzo, una straniera, quanti anni hai? 13? 13. 13. Raccontami, la stagione, mi ha detto prima Fabio, è iniziata così così e poi invece piano piano avete messo in pratica il gioco che vi ha insegnato. A proposito, facciamo, apriamo una parentesi perché in panchina c'è Fabio e Laura, è più severo lui o Laura con voi? Dipende, a volte è più severo lui, a volte è più severa lei, varia dei giorni. E soprattutto come giocate voi penso, va bene, comunque ti stavo facendo questa domanda, iniziato il campionato così così, poi via via avete capito che forse potevate essere le protagoniste, l'avete fatto. Sì, allora siamo iniziate comunque, la forza di tutte era al massimo, magari non in tutte le partite abbiamo dato il massimo di noi, però la maggior parte delle volte sì e magari all'inizio un po' la paura o l'ansia si ha, però passata passata una o due partite riusciamo a tirare fuori meglio di noi. Insomma è stato migliore il girone di andata quasi che quello di ritorno? Sì. Sì? Dove non avete mai perso il girone di andata? Sì abbiamo perso una volta. Una volta? Una volta sì. Una volta sola, mentre il girone di ritorno qualche sconfitta in più, però siete riusciti a arrivare prime. La partita che dentro di te ricordi volentieri? L'ultima, quella che ci ha cambiato comunque tutto, ci ha portato alla vittoria. Alla vittoria del campionato? Sì. Benissimo. Niente, è stato bellissimo. È stato bellissimo. Tu giochi costantemente oppure Fabio ogni tanto ti fa uscire? Sì, gioco quasi sempre, però a volte ci sono anche dei cambi tra me e alcune altre ragazze ci sono, però di solito gioco quasi sempre i titolari. Grazie, grazie Irene. Andiamo a conoscere Federica, eccola lì inquadrata. Federica che tra l'altro mi sembri anche abbastanza alta, perciò sei agevolata tu dal tuo altezza. Che ruolo hai? Centro. Centro. È un ruolo che ti piace o preferivi magari schiacciatrice, non so, attaccante, come si dice? No, no, io attacco. Sì? Sì, sì, schiaccio. Attacchi al centro? Sì. Di solito fai i primi tempi, insomma. Sì. Ah, vedi che me ne intendo. Perciò sei un potenziale jolly dalla squadra, perché nel primo tempo mi insegni che è sempre difficile murarlo, giusto? Sì. Dai, com'è stata la tua storia con la pallavolo? Allora, io per la maggior parte dell'andata, cioè del ritorno, non ho giocato perché sono stata operata. Niente di grave? No, no, niente di grave. Ti sei ripresa, meno male. Sì, sì. E quindi non ho potuto giocare con le mie compagne. Comunque l'andata è stata molto bella perché abbiamo vinto quasi tutte le partite, mentre il ritorno sono andata a vederle. Hai capito questa ragazza? Avete capito? Io non ho giocato nel ritorno e qualche partita in più l'ha persa. Come a dire, insomma, che sicuramente sei un punto di forza della squadra. È giusto che sia così, dai. No, ci mancherebbe. Però, insomma, tu lo sai che la vittoria, diciamo così, il bel gioco lo fa tutto il gruppo, non soltanto una persona. Anche se poi chi finalizza è quello che l'attaccante, insomma, se non tira mai in porta, non segna mai. E invece, parlando del calcio, naturalmente, invece tu, quando ci sei stata, il tuo dovere l'hai fatto. Fabio, cosa ti suggeriva? Anche per durante il tuo infortunio, come ha fatto a farti riprendere e dire no, sei ancora parte di noi? Guarda che riprenderai, guarda che diventerai ancora più forte. No, lui tiene molto a noi, al nostro gruppo, e mette per prima cosa la nostra salute. Quindi mi ha detto di riposare, di riprendermi e poi, visto che siamo un gruppo molto unito, che non avrei avuto problemi a rimettermi nella squadra. E ci sei riuscita? Sì. Benissimo, perciò sei pronta per il prossimo campionato. Sì, sì. Che cosa ti augureresti per il prossimo campionato? Ancora un anno come mini allieve o magari un saltino? No, io spero di fare un saltino, di provare a vincere un altro campionato, anche se giocando magari con squadre più forti di noi e più grandi, però di provare lo stesso con un campionato più difficile. L'appetito viene mangiando, è così, insomma, è come l'Atalanta, l'anno prossimo mira andare in Champions, perciò figuriamoci. Vabbè, sarà bello che resti ancora in Serie A. Comunque l'importante è crederci, essere convinte dei propri mezzi, mi pare che voi lo siate. Benissimo, ti ringrazio. Il microfono ce l'ha Alice, giusto? Eccola lì. Allora, abbiamo iniziato subito con Alice, scherzando anche per sdrammatizzare un po' perché era preoccupata per le domande, e invece ci sono un sacco di ragazzi che qui dietro le telecamere che gli hanno già detto, ma che belli occhi che hai, te lo dicono anche durante la partita, è vero? No. No, non te lo dicono mai. Vabbè, ho sdrammatizzato, ho voluto sdrammatizzare così sei a tuo agio. Sei di Crusone? Sì. Sì. Queste ragazze, tante, alcune di queste ragazze sono anche a scuola con te? Sì, quasi tutte. Quasi tutte. Pertanto al lunedì, voi giocate al sabato normalmente? Sì. Ma comunque al lunedì quando vi trovate a scuola, parlate della partita o ogni tanto divagate e non state attenti alle lezioni? Quello che preoccupa un po'. No, io della mia classe sono l'unica con Desiree che manca, che fa pallavolo e la mattina non è che ci vediamo molto, però comunque ad allenamento alcune volte parliamo della partita, ma anche dopo la partita nello spogliatoio scambiamo i nostri pareri. A proposito, hai parlato di allenamenti, ci sembra così, anche se magari c'è qualche ragazza della vostra età che ha qualche nozione di pallavolo o di volley, come si dice, magari dice ma mi piacerebbe entrare comunque a fare nel gruppo, essere comunque vicino. Com'è la vostra settimana sportiva? Il giorno al sabato o la partita? E gli allenamenti quanti sono due? Gli allenamenti sono due, il lunedì e il giovedì, sempre alla stessa ora, dalle 6 e mezza fino alle 8 e mezza. Ecco, perciò avete il tempo per fare i compiti, per assolvere i doveri scolastici, giusto? Sì. Perciò non vi distoglie più di tanto questo impegno? No, no. O perlomeno, però vi dà anche la forza di concentrarsi su quello che è il vostro piacere, l'avvenimento sportivo, eccetera, e il saper giocare. Quando ti metti la testa sul cuscino, a parte pensare, che so io, come si chiama lui, vabbè non lo diciamo perché ci sono i tuoi, no lo so, è una battuta, c'è qualche sogno che ti ricorre nella testa e dici, ma mi piacerebbe, parlando della pallavolo naturalmente, arrivare? A me la pallavolo mi ha sempre appassionato, è il mio hobby e ogni pomeriggio voglio uscire a giocare, anche se non posso quasi tutti i pomeriggi. Hai praticato altri sport o solo questo? Ho praticato anche il nuoto per problemi di salute, però mi è sempre piaciuto perché comunque anche a me l'attività fisica piace e quindi non mi ha dato fastidio fare anche altri sport. Benissimo, grazie, grazie anche ad Alice, adesso abbiamo il tempo naturalmente di continuare la chiacchierata con Fabio Scandella. Diciamolo francamente, 13 anni, 14 anni, tu sei passato, magari siamo passati tutti, magari con tempi diversi e con sogni diversi, perlomeno per quanto mi riguarda, forse anche per quanto riguarda te. E adesso, come adesso, lo dobbiamo dire, è difficile gestire un gruppo di ragazzine che hanno voglia di scoprire la vita, hanno voglia di scoprire tante emozioni, sensazioni, eccetera, eccetera. Come fai a tenerle e qual è la difficoltà maggiore nel tenerle a bala? Perché io in tutti questi anni, senza peccare di presunzione, ho sempre detto a chi sedeva al tuo posto, nella tua situazione, che poi lo sport fosse diverso, ho detto, il difficile di un allenatore, secondo me, è quello di non prevaricare quelli che sono i suggerimenti che devono dare i familiari. E forse, non so se ho detto giusto o meno. Allora, diciamo che io questo gruppo lo seguo da tre anni e mi sto rendendo conto che stanno crescendo. Prima era più facile relazionarmi con loro, adesso che stanno crescendo, avendo già avuto anche esperienze in passato, un po' mi affido all'esperienza, un po' uno, un po' l'altro, cerco di essere il più neutrale possibile, però mi rendo conto che man mano crescono, devi sempre modificare anche il tuo modo di relazionarti a loro. Non è facile, però io ho sempre cercato di inculcare nella loro testa che lo sport deve essere soprattutto, prima di tutto, un po' di disciplina. E questo gruppo, sono contento perché loro, quando entrano in palestra, vanno in una modalità per la quale sono serie. E allora faccio davvero, avendo lavorato prima, faccio poca fatica ad avere la loro attenzione. È tutta una questione di sapersi distruirle prima da piccoline e fargli capire che lo sport è sì divertimento, però bisogna anche avere un certo inquadramento che da quel poco che ho visto loro crescendo, mi stanno seguendo anche su questo fatto, per cui è abbastanza facile. Anche perché tu mi insegni che poi lo sport, con le debite e proporzioni per carità, però è paragonabile a quella che è la vita sociale, insomma. Cioè il relazionarsi, il sapere affrontare le problematiche, la sconfitta come la vittoria, l'abbattimento psicologico come l'esaltazione. Esatto. Ecco, sono queste che comunque attendono in ogni caso queste ragazze anche per la vita futura, no? Sì, sì. Infatti la stessa cosa che gli dico io in palestra sempre a loro è il fatto che lo sport, il comportamento che hanno nello sport sarà quello che nel futuro, nella loro vita, dovranno più o meno sempre essere serie e dovranno sempre avere un certo modo di comportarsi. Penso che loro nel corso degli anni questa cosa l'abbiano capita e da quel poco che vedo io nel loro comportamento in palestra cercano sempre di dimostrarmi che nelle due ore di allenamento cercano sempre di darmi il 100%. Questo è quello che piace a me di questo gruppo. Poi nella loro vita sono il primo sempre io a dirgli che dovranno fare le loro esperienze ma dovranno sempre affrontarle così, con determinatezza. Con la determinazione e soprattutto la consapevolezza dei loro 13 o 14 anni però con quello che presentano, che presenta questa età e con le problematiche che naturalmente questa età può avere. Abbiamo affrontato un argomento quasi da psicologi insomma, ma del resto aiutami a capire l'allenatore, un allenatore con le ragazze, allora se prendi i ragazzini di 5 o 6 anni gli dai lì la palla e gli dici cerca di buttarla di là o cerca di far il canestro piuttosto che il gol e tutto fia, ma a questa età bisogna stare attenti a non farle arrabbiare, non dire una parola fuori posto se no diventano suscettibili insomma. Sono tanti gli argomenti, ecco il perché è anche una questione un po' psicologica quello di un allenatore, non è assolutamente facile. Non è facile no, anche perché ognuna di loro ha un determinato carattere per cui magari è abbastanza una parola detta anche solo che una la interpreta nel modo giusto, l'altra no, devi sempre mediare, però dopo una volta che impari a conoscerle tra virgolette è facile, è abbastanza facile. Beh sai come prenderle quanto meno. Sì, più o meno sì, sto imparando. Allora voi sapete, siamo quasi in conclusione anche della seconda parte, l'ultima domanda ci sta, voi sapete che uno dei problemi in determinati sport è molto più accentuato, sto parlando del calcio, in altri sport invece non è così sentito, è quello della gestione dei figli attraverso con i genitori, magari un genitore che giustamente vede la propria figlia, sa che è bravina, però magari in quel momento lì tu preferisci far giocare a qualcun altro e sei soggetto a critiche, questo rapporto con i genitori com'è? Allora io con i genitori, fino ora, penso di avere dei genitori, un gruppo di genitori davvero che mi danno la loro fiducia e io di questo gliene sarò sempre grati, però non hanno, è fuori di qualche piccola discussione, ma quella capita sempre, però credo che mi stiano dando la giusta fiducia e io sto cercando di ripagare la loro fiducia in tutti i modi, quando loro entrano in campo e io le vedo giocare e come penso anche loro le vedano giocare, vedono delle ragazze che hanno cominciato e stanno facendo un determinato percorso che però ci sta portando ad avere anche a Clusone finalmente un pochino di pella pallavolo. Fabio Scandella, psicologo, è soprattutto capace di gestire un gruppo di ragazzini di 13-14 anni e capace anche di farsi voler bene dai genitori e non è cosa da poco, ve lo posso garantire, perché da tanti anni che ho a che fare indirettamente con gli sportivi so che questa è una problematica, come ho detto prima, in certi sport abbastanza accentuata. Ci fermiamo, abbiamo la seconda pausa pubblicitaria, il tempo naturalmente di stare attenti ai consigli che sicuramente, come li avete visti anche prima, tratteranno parte anche dei nostri sponsor e poi ritorneremo in studio e entreremo nel vivo della pallavolo con le ragazze, il ruolo, l'intercambiabilità dei ruoli, se ognuno è fissa col suo ruolo oppure se invece può giocare in qualche altra zona del campo, ve lo spiegheremo fra poco, state lì. Allora un orecchio naturalmente verso i nostri sponsor che ringraziamo e diciamo così una parte di questa pausa pubblicitaria per conoscere meglio le ragazze e soprattutto per scoprire qualche loro segreto. Non ne hanno, sono ragazze normali, sono ragazze che arrivano al termine di questo percorso, innanzitutto quello scolastico importante delle scuole, della scuola primaria, poi quella secondaria, adesso le scuole superiori, ma voglio dire hanno comunque la voglia, la grinta, la capacità di proseguire anche in quella che sarà la loro vita sociale e poi subito dietro c'è naturalmente la vita sportiva, quella che ci interessa a noi. E allora andiamo a conoscere insomma come è nata e soprattutto come può proseguire la vita sportiva di Elisa, la capitana. Il tuo sogno nel cassetto? Ah c'è il microfono, eccolo qua, bravissima. Io gioco nel ruolo di alzatrice e devo dire che questo ruolo mi piace perché comunque diciamo che è uno dei ruoli, oltre anche al libero, è uno dei ruoli più importanti perché serve per costruire l'azione e quindi alla fine schiacciare. Mi è sempre piaciuto giocare in questo ruolo, a volte ho fatto anche dei cambi con Irene che di solito fa opposto e niente questo ruolo ci trovo bene. Anche quando l'arbitro ti fischia la doppia? Non te la fischia mai, è impossibile? No, a volte sì. A volte sì, ma è proprio così difficile il palleggio, di solito alzi in bagger o in palleggio. Palleggio. Palleggio, pertanto sei una vera alzatrice insomma, perché alzare in bagger vuol dire avere dei dubbi sul palleggio vero e proprio, sempre la paura di sbagliare il palleggio, invece tu alzi, pertanto sei sicura del tuo palleggio insomma. Ecco, come schemi, Fabio come ha fatto a trasmettervi e farveli capire subito? All'inizio, due anni fa ci è voluto un po', poi però ci siamo, dopo un po' di tempo ci siamo abituati, quindi adesso è normale, è semplice. Hai libertà essendo la capitana in campo oppure devi stare a quello che suggerisce la panchina, l'allenatore? Diciamo che un po' mi gestisco io e invece a volte mi dà anche dei consigli il mio allenatore. E verso le tue compagne le richiami ogni tanto? Qualità di capitano, di solito il capitano sì, soprattutto quando guardano agli spalti, che magari si perdono via, va bene, l'abbiamo capito. Grazie, vuoi dare il microfono a Alessandra? Allora, il tuo ruolo Alessandra? Io sono un lato e questo ruolo mi è sempre piaciuto perché comunque io amo attaccare e poi per questo ruolo è necessaria moltissima attenzione perché soprattutto con il nostro schema bisogna fare dei cambi abbastanza complicati e comunque bisogna stare attenti per non lasciare spazi scoperti in campo. E niente, questo ruolo è veramente fantastico. Allora, ti metto alla prova. Io quando per tanti anni ho seguito la pallavolo, anche con delle misere telecroniche, per carità, e mi ha sempre esaltato un gesto tecnico, la schiacciata va alla seconda linea. Sì. Riesci a farla? Sì. Sì? Praticamente è quando si schiaccia da dietro, si può schiacciare con i piedi a terra oppure fare il passo stacco e dipende tutto da come ti senti. Se vai sicura puoi fare anche il passo stacco, salti, schiacci poi come va va. Ma, beh, non possono mica essere tutti i punti, altrimenti a quest'ora ti avrebbero già scritto quelli di Bergamo, ti avrebbero già detto guarda che c'è un posto anche per te sicuramente, magari lo faranno quest'estate, aspettati una raccomandata vedrai. Speriamo sia così anche per le altre. Lara, eccola qua, Lara, il tuo ruolo? Il mio ruolo è il libero e io gioco praticamente soltanto nelle tre posizioni dietro e il mio compito è quello di ricevere. Diciamo che io devo ricevere le schiacciate, quelle un po' più forti e devo essere sempre pronta in ogni situazione. Il libero spesso e sovente, per chi segue la pallavolo, è considerato un ruolo non del tutto attivo, è invece sbagliatissimo, poi Fabio me lo preciserà a questo punto, perché è uno dei ruoli più importanti per quanto riguarda la squadra, sei consapevole di questo? Sì, però comunque è un ruolo che si può fare anche a meno, però a me piace molto ricevere, soprattutto quando le schiacciate sono forti, mi piace mettermi alla prova e provare a dare meglio di me e quindi con la mia recezione l'alzatore riesce ad alzare e diciamo a fare un punto. Ecco, ti appaga questo ruolo? Ho visto che sei anche tu abbastanza alta, ogni tanto dici eh insomma a muro ci potrei stare bene anch'io in attacco. Io i primi anni ho provato un po' a giocare davanti, a schiacciare, però non sono mai stata molto in grado e quindi sono subito entrata nell'ottica di diventare un libero e niente. E ci sei riuscita insomma, benissimo, ti ringrazio, andiamo con Alessia, il tuo ruolo? Il mio ruolo è Lato. Lato, me l'hai già detto prima, giusto? E mi piace molto perché mi piace attaccare e ogni tanto faccio cambio con Alessandra. Sì? Dai, di quello che vuoi dire, fai cambio con Alessandra. Facciamo così, che media punto hai in percentuale, non so, quando attacchi? Un punto su tre o due su tre? Tre su tre? Uno su tre. Due su tre? No, uno. Ah, uno. Due su tre era già una bella percentuale. Poi dipende anche dalle giornate perché ogni tanto sono in giornata e ogni tanto invece le sbaglio tutte. Ecco, allora visto che sei entrata in argomento e visto che l'abbiamo detto, l'età è questa qua, perché le sbagli tutti e cosa pensi? Perché credo che si dipenda dalla forma, insomma. La forma è uno che gioca in Serie A, ma chi gioca a questi livelli dovrebbe essere sempre concentrata invece? E invece ogni tanto perde la concentrazione e poi ce lo spiegherà fuori dal microfono. Comunque ti soddisfa questo ruolo? Sì, moltissimo. Sì. Vorresti rubare un altro ruolo? A chi? Se tu potresti farlo e magari Fabio capisce che hai questo desiderio di giocare, che so io, libero piuttosto che centrale? Il mio secondo ruolo preferito è il libero. Il libero? Sì, perché comunque aiuti molto la squadra. Un casotto sì. Aiuti molto la squadra a ricevere le schiacciate porti e quindi anche se magari è in difficoltà tu riesci ad aiutarla. Certamente. Lara, sei in pericolo. Il tuo posto di libero è in pericolo. Vuoi dare? No, c'è il microfono dietro, lo fai passare di qua. Il microfono lo diamo ad Alice per dopo. Il tuo ruolo invece? Il mio ruolo è il lato. Sì? Sì, mi piace abbastanza, anche se preferirei fare l'opposto che sarebbe il mio vero ruolo dato che sono mancina. Questo ha un altro ruolo importante, l'opposto che in una squadra, soprattutto nel volley diciamo così moderno. Quello di una volta l'opposto era quasi relativo, invece nel volley moderno è un ruolo importante. Ti trovi bene in questo ruolo velato? Ti alterni con la tua compagna? Sì, o mi alterno con Alessandra piuttosto che con Alessia o qualcun altro, come Alice. Con i lati mi cambio. Qual è il più bel ricordo, a parte un 10 in matematica a scuola? Eh, magari! Va bene. Qual è il più bel ricordo della pallavolo che ti porti nel tuo cassetto, nella tua borsa? Sicuramente il secondo set dell'ultima partita di campionato, dove quando sapevamo che avevamo vinto il campionato, ma veramente vinto, ci siamo quasi messe tutti a piangere, ma di gioia, è stato stupendo quel momento. Dai, è una bella sensazione questo. Sì, lo porto nel cuore molto bene. Ma questo vi fa, diciamo così, secondo me, perché per carità, velocissimamente, insomma oggi spesso e sovente noi genitori, io nonno, bistrattiamo un po' questi ragazzi, li vediamo in maniera diversa rispetto a come siamo cresciuti noi, non gli crediamo, perlomeno abbiamo difficoltà a credergli, invece spesso e sovente ci sorprendono e questa è una delle cose che ci sta sorprendendo, insomma, il fatto che ci si può emozionare e piangere perché avete capito di vincere un campionato, questo vuol dire che vi portate dentro ancora qualcosa, insomma, mi pare proprio di sì, no? Sì, sì, poi questa qua è una squadra che ha molti ideali, ognuna di noi ha degli obiettivi, anche se li abbiamo comunque in comune in tutta la squadra, ma è bello che ognuno di noi riesca a raggiungere i propri obiettivi, ci dà anche forza per andare avanti con gli anni, perché è chiaro che se qualcuno non riesce nel proprio ruolo, non riesce in quello che fa, è svantaggiato nell'andare avanti, si deprime, mentre invece noi siamo molto unite, abbiamo degli ideali e anche il nostro allenatore comunque ci capisce, per cui sì. Poi ve lo chiedo alla fine, un grande applauso per Fabio perché vi ha sopportato tutta la stagione, dai, benissimo, Irene. Il ruolo è opposto e quando c'è bisogno aiuto Elisa, mi piace l'opposto perché schiaccio e quando schiaccio libero un po' anche le mie emozioni o l'ansia o tutti i problemi che ho. Quanti? Sembra banale ma ce li hanno anche loro. Ti piace insomma questo ruolo ma ti piace soprattutto far parte di quello che quasi all'improvviso, ma era già una bella realtà, quasi all'improvviso è diventata una bellissima realtà, quella anche di un gruppo che si, come ha detto prima la tua compagna, ci si emoziona anche per una vittoria, la vittoria al campionato, sapendo che poi la vita può riservare ancora tante bellissime sorprese sportive, perciò c'è la consapevolezza che state pian piano entrando in quella che è la vita di tutti i giorni con le soddisfazioni, le gioie e i dolori, anche sotto l'aspetto sportivo ma anche per quanto riguarda tutto il resto. a chi la dedichi questa vittoria? C'è una persona in particolare? No. I genitori? Sì, i genitori, la famiglia, gli amici. Sì, va bene, gli amici in generale, stiamo lì a sottilizzare, insomma. Andiamo con Federica, dai. Io faccio il centro come l'altra ragazza che oggi non è venuta, Alice, e io al contrario di Lara gioco le tre posizioni davanti, mentre quando vado in battuta devo cambiare con Lara e non ricevo quasi mai. Certo, perciò tu non sei specializzata, specialista delle ricezioni, ma dell'attacco come già hai spiegato prima. Ti arrabbi con una collega quando ti dice, non so come ve la intendete, con i gesti 2, 5, 6, 8, non so che gesti vi fate. Spesso e sovente quando li vediamo alla televisione ci fanno i segnaci dietro la schiena e è malapena, riusciamo a capire, ma sono gli schemi. Quando magari ti dice, adesso ti fa capire che c'è una veloce sottorete al centro e invece non va o perché è corta o perché è troppo lunga, che cosa succede? No, no, io non mi arrabbio perché comunque so che anche il ruolo dell'alzatore o del libro è molto difficile, quindi non sempre possono fare tutto perfetto, quindi no, assolutamente non mi arrabbio. Dai, sogniamo per 5 minuti, 2 minuti. Sonia chiudi gli occhi e dici, oggi hai 13, 14 anni, 14 anni, fra non tanti, 5, 6 anni sono, vorrei? Vorrei ancora giocare a palla a volo e sarebbe bellissimo giocare ancora in questa squadra con tutte. In Serie A? No, magari non così bello, però giocare lo stesso con loro. Sì, qui si è proprio unito un bel gruppo, nessuno si arrabbia o perlomeno l'arrabbiatura passa subito dopo il confronto, insomma, questa è la cosa bella. Ti ringrazio, ti ringrazio Federica, andiamo con Alice, eccola qua, l'ho tartassata prima, adesso devo essere calmo, che ruolo è il tuo? Lato. Lato, ti piace questo ruolo? Sì, molto, anche perché io essenzialmente ho avuto due ruoli, inizialmente facevo il centro, però dopo non mi trovavo molto bene e quindi ho cambiato con il lato che è decisamente diverso dal centro, anche con gli schemi ho fatto un po' fatica a cambiargli, però dopo mi sono adattata e adesso mi piace molto questo ruolo, perché comunque riesco abbastanza bene. La squadra più rognosa, rognosa sportivamente parlando, che avete incontrato nel campionato? Più rognosa nel senso che vi ha dato più filo da torcia, le più difficili da affrontare, non cattivi, ci mancherebbe, cattive. Fiorano blu. Il fiorano blu, erano tosti? Sì, era in 2002. Le avete battute? No, abbiamo perso per tutte e due le volte, però comunque ce la siamo combattuta, soprattutto a ritorno e abbiamo giocato una bella partita comunque. Insomma, le soddisfazioni non sono mancate, insomma anche perché questi avevano un anno più di voi, pertanto era difficile. Abbiamo ancora un paio di minuti per andare a chiudere ancora con l'allenatore Fabio Scandella, chiaramente ci viene spontaneo, insomma le ragazze sognano, l'allenatore sogna, cosa vorrebbe fare l'anno prossimo? Non dirmi no, mi piace allenare queste ragazze e continuare il progetto che ho intrapreso con loro. Sì, sì. Però? Allora, l'anno prossimo proveremo ancora, dobbiamo ancora decidere bene cosa fare, se continueremo a fare CSI oppure passare come abbiamo fatto l'anno scorso in federazione. Boh, è ancora tutto da scrivere, però a me questo gruppo è rimasto, mi è rimasto dentro perché davvero mi hanno dimostrato che col sudore, con la fatica in palestra, con la voglia, anche una piccola squadretta di ragazzine, tra virgolette, piccole, si può fare bene. E allora, le ringrazio tutte perché io ho voluto molto da loro, ma loro mi hanno dato quello che io volevo, per cui è stato davvero un anno bello. Ringrazio i genitori, ringrazio il Clusone che mi ha dato questa possibilità di seguire questo gruppo, ringrazio Laura che mi sopporta perché gli impegni sono davvero tanti e adesso vediamo l'anno prossimo. Io non lo conosco personalmente, ma ringrazio Laura perché ti ha, diciamo, ti ha fatto anche un buon allenatore, sai, mantenere le tue euforie, le tue gioie, i tuoi dolori, però non hai parlato di quelle che sono poi le tue speranze come allenatore, allenare questi ragazzi nel breve termine, poi? Se ti chiama qualcuno? Io alleno anche a Piario, alleno anche una squadra a Piario, cioè dopo anche per noi allenatori è difficile avere così tanto tempo a disposizione da dedicare, però anche a me piacerebbe, mi hanno proposto di allenare quest'anno una squadra più grande del Clusone e i progetti ci sono, poi bisogna vedere se si riesce col tempo, che devi mettere a disposizione con tutto, però a me la pallavolo piace moltissimo per cui tempo da dedicare, lo troverò sempre. Certamente, io ti ringrazio, ringrazio naturalmente le ragazze Clusone gialle, giusto? Categoria mini allieve che hanno conquistato, che hanno vinto il loro campionato, le ringrazio per essere state qui con noi a raccontarci questa bella storia dello sport di casa nostra. Naturalmente i meriti vanno attribuiti a tutti perché alla fin fine poi quando si vince non è solo il gruppo ma è la società, è chi la dirige, è chi dà la possibilità, gli sponsor, l'allenatore, i genitori, tutti coloro che hanno comunque la voglia di vedere arrivare per le ragazze questa soddisfazione e credetemi a questa età, l'hanno già detto le ragazze prima, sono cose che si porteranno dentro per tanto tempo, mi è capitato, poi chiudo di vedere delle ragazze che praticavano sport, poi a 16, 17 anni per tanti motivi, l'hanno abbandonato e riprenderlo magari dopo i 30 e queste ragazze ricordano gli anni di questa età, 13, 12, 13, 14 anni, li ricordano come se fosse una parte integrante della loro vita e lo sarà sicuramente. Io però, se mi permettete ragazze, voglio concludere con un applauso rivolto ai vostri genitori che vi hanno dato la possibilità di arrivare fin qui, ma un applauso per Fabio e per Laura che hanno contribuito davvero e vi hanno sopportato, diciamolo francamente. Grazie, grazie a voi. Concludiamo qui, non mi resta altro che ringraziare Angelo dietro la telecamera, felice in regia, che anche questa sera ha dato il loro importante apporto per la riuscita della manifestazione. Martedì prossimo saremo qui quasi con le lacrime negli occhi, anch'io come con le ragazze, perché sarà l'ultima puntata di questa 24esima stagione, però siamo sicuri anche quest'anno, come il resto abbiamo fatto questa sera, di avervi raccontato una bella, bellissima storia. Sarà anche di casa nostra, però è davvero una bella storia. Grazie, ci vediamo martedì a risentirci.